Sono l'elemento di congiunzione. Solidarietà e prevenzione è stato ancora una volta il connubio perfetto che l'associazione Carmine e Speranza Onlus ha messo in campo con tutti uniti con il cuore. Una manifestazione che si rinnova da cinque anni e che vede come fattivi collaboratori, cittadini di Tori Orsaia e tanti tantissimi professionisti che hanno sposato la causa, rendendo possibile la sempre più capillare azione della insuperabile Onlus. Un'associazione che dovrebbe essere presa ad esempio proprio per il suo spiccato spirito di solidarietà sociale. Così è stato anche per l'edizione 2014 e in piazza Cairoli ha portato sul palco i nomi noti della sanità locale per ricordare l'importanza della solidarietà e della prevenzione per fronteggiare le emergenze cardiache, ma non solo. Oltre a fare il appunto sulle attività svolte in questo ultimo anno dall'associazione Speranza, il variegato parterra proprio per le diverse specializzazioni ha infatti saputo toccare vari aspetti, da quelli più strettamente legati alla cardiologia, all'endocrinologia, dalla psichiatria all'ematologia. Il numeroso pubblico ha seguito con interesse, mantenendo sempre alta l'attenzione, fino a tuffarsi in aspetti più pratici quando è stata eseguita una dimostrazione di disostruzione delle vie aeree di lattanti bambini e adulti. Manovre semplici che, come nel caso dell'utilizzo del defibrillatore, possono aiutare a salvare una vita. E per salvare una vita a volte ci vuole davvero poco. La manifestazione è stata accompagnata da momenti ludici per i più piccoli, da mercatini della solidarietà e sul finire la musica con l'intrattenimento del gruppo di pizzica e taranta Voci dal Sud. La serata si è chiusa con successo e circa 4.000 euro raccolti che saranno devoluti per le attività sociali dell'associazione Speranza. Anche per quest'anno la solidarietà ha fatto bene al cuore. Grazie a tutti di cuore per la partecipazione, a tutti voi che avete collaborato e che ci state vicino quotidianamente.